Finalmente ragazzi, finalmente terza vittoria consecutiva per il Lecce che oggi sbanca veramente il tombolato Prima vittoria contro il Cittadella e quindi incantesimo rotto finalmente Non avevamo mai vinto ragazzi contro il Cittadella sia fuori casa sia in casa E quindi oggi veramente un'enorme gioia, finalmente è arrivato l'allenatore giusto che ci ha fatto vincere finalmente una partita Tosta ci ha fatto rompere questo incantesimo e appunto il Lecce oggi si porta via tre punti molto importanti Che fanno rifiutare un po' la classifica e che per il momento li fanno andare quinti nella classifica del campionato cadetto C'è ancora una partita che al momento si sta svolgendo, quella del Frosinone Comunque ragazzi, partita molto sofferta, partita molto sofferta sia dal Cittadella sia dal Lecce Soprattutto dal Cittadella che ci ha provato fino all'ultimo ma il Lecce è a portare questi tre punti a casa E' un'enorme gioia per i tifosi giallorossi che si rivedono la loro squadra in forma, la rivedono veramente bene Ora iniziamo col commento diciamo un po' della partita, in breve della partita Però prima di tutto vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella qualora non l'aveste già fatto Alla decima minuto arriva il gol che sblocca la partita con Massimo Coda Massimo Coda che sigla il suo terzo gol in campionato Il secondo su azione perché il primo l'ha fatto sul rigore proprio contro il Como nella prima giornata di Serie B E devo dire che questa volta il merito è di Di Mariano che gli mette un buon passaggio Di Mariano che poi si sigla il vantaggio e Di Mariano che secondo me oggi è l'MVP perché ci ha fatto vincere la partita E niente La Cittadella poi prova a fare una fase di attacco, una fase di possesso pala soprattutto E si difende molto bene E al 45esimo arriva l'occasione ben sfruttata da Okongo che si trova un buon pallone Lo mette in rete a porta spalancata Errore della difesa del Lecce Ma si alza la bandierina per l'arbitro e per il guardarini fuori gioco viene anche rivista al VAR Okongo che poi vuole rispondere alla gioia dei giocatori del Lecce Che momentaneamente esultano per appunto il gol non convalidato E così che al 47esimo al secondo minuto di recupero sigla il pareggio E così manda negli spogliatoi le due formazioni sull'1-1 Lecce che rientra in campo molto bene Soprattutto lo fa con De Cambi Entra al posto di Biarnason Che in questo match è stato schierato sin dal primo minuto al posto di Tuglia E al suo posto entra Meccariello che disputa veramente un'ottima partita Anche finita con un'ammunizione per un fallo tattico Veramente un fallo tattico Fatto con la mente ragazzi Perché se lì non avesse commesso fallo Meccariello Il Cittadella avrebbe potuto pareggiare la partita Sarebbe potuto ripartire in contropiede Poi Lecce fa un altro cambio Ovvero Strefezza per Olivieri Un cambio Questo che inizialmente non ho condiviso Perché Olivieri mi stava piacendo per come stava giocando Ma Strefezza Era il giocatore che Poteva dare Poteva e ha dato soprattutto Quello sprint finale per vincere la partita E infatti è proprio lui Che mette un cross Al 70 centesimo Nell'area di rigore del Cittadella Per Francesco Di Mariano Che non deve che spingere questo pallone in rete In quelle parti c'era anche Pablo Rodriguez Che però non si è trovato A suo agio a tirare E quindi ha lasciato questo pallone Fortunatamente ragazzi A Francesco Di Mariano Che poi ha siglato il suo terzo gol In maglia giallorossa Ragazzi praticamente in Quattro giorni se non sbaglio Di Mariano ha fatto tre gol Comunque Entra anche Pablo Rodriguez Al posto di Björkengren Björkengren ha fatto una super prestazione Non vedevo un Björkengren così Dalla scorsa stagione E Questo appunto Cambio in formazione Quindi Björkengren Al posto di Mayer Mi è piaciuto Mi è piaciuto tantissimo Mayer non è entrato ragazzi E questo un po' Un po' non l'ho accettato Perché Mayer Poteva essere un altro giocatore Che Poteva decidere la partita Ragazzi io vi ringrazio Per aver visto questo video Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Una nuova live reaction Oggi l'abbiamo fatta sul canale Di Alex Maverick La prossima La prossima Molto probabilmente Sarà sul mio Forse andrà allo stadio Poi si vedrà Ragazzi Io vi auguro Una buona domenica Forse le c'è sempre Più tre Quinti in classifica Momentaneamente Bella Grazie a tutti Grazie a tutti